Sabato 1 e domenica 2 agosto si svolgerà ad Ardesio la sedicesima edizione di Ardesio di Vino, mostra a mercato e no gastronomica in cui selezionati vignaioli e artigiani del gusto propongono in assaggio e in vendita i loro prodotti. La rassegna anticipata il venerdì 31 luglio dalla cena divina è organizzata dalla Proloco con il sostegno dell'amministrazione comunale e la collaborazione del professor Paolo Tegoni, presidente dell'associazione Gastronomi Professionisti. Sarà un Ardesio di Vino diverso dalle edizioni passate ma il cuore dell'evento non cambia. Si potrà degustare in sicurezza insieme ai produttori, stando seduti, confrontarsi e conoscere i loro prodotti. Abbiamo lavorato per mantenere alta la qualità dell'artigiano, del gusto e anche degli eventi collaterali. Si inizia venerdì sera con la cena divina curata dal sommelier Paolo Tegoni e poi i due giorni di degustazioni accompagnati da intrattenimenti musicali. Due giorni di degustazioni ad orario continuato dalle 10.30 fino alle 20.00. Sarà inevitabilmente un'edizione diversa in cui non vi saranno viuzze affollate a brindisi ravvicinati ma un Ardesio di Vino in cui non mancherà la qualità delle proposte, il calore dei produttori e la possibilità di dialogare con loro e poi la bellezza e l'unicità di gustare un buon vino immersi nel centro storico cittadino con vista sulle Orobie. Sabato ci sarà la degustazione d'autore con il seminario Veronelli mentre la domenica ci sarà uno show cooking con lo chef Alberto Zanoletti. Distanziamento, controlli agli ingressi, non ci sarà il concertone del sabato sera né le cene in piazza. Vi invitiamo a acquistare la prevendita, vi ricordiamo che durante i giorni dell'evento non sarà possibile acquistare il biglietto per questa edizione. La prevendita la potete trovare presso gli uffici della Proloco di Vivi Ardesio o sul sito internet ardesiovino.it lì troverete anche tutto il programma e tutte le informazioni necessarie.